Previsioni Bitcoin 2022, cosa è cambiato dopo l'inizio della guerra tra Russia ed Ucraina? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video dove andiamo a fare un riepilogo generale, un'analisi di tutte quelle che sono stati cambiamenti importantissimi nelle ultime due settimane dovuti all'inizio di questo conflitto bellico tra Russia ed Ucraina. Che cosa è cambiato nell'ambito delle criptovalute e che cosa sta succedendo perché ragazzi questa è la prima volta che avviene una guerra praticamente incentrata in versione cripto, quindi una guerra dove le cripto hanno anche un ruolo molto molto importante cioè quello di andare ad avere un ruolo di protezione contro la svalutazione vengono anche utilizzate eccetera in questo momento dall'Ucraina per ricevere delle donazioni per proteggersi ci sono stati tanti cambiamenti e quindi in questo video andiamo a fare riepilogo di tutto quello che è cambiato che cosa può succedere da qui ai prossimi due tre mesi in quest'anno 2022 estremamente variopinto estremamente pericoloso anche dobbiamo dirlo ed è molto strano ma anche di un anno di conferma del ruolo delle criptovalute del ruolo di bitcoin nel mondo ormai in pratica un'adoption sottolineata evidenziata da tutti i punti di vista anche da questo punto di vista appunto della natura bellica delle cose allora intanto la prima questione fondamentale è quella legata all'inflazione questo tipo di conflitto ragazzi è un conflitto che ha un impatto importantissimo da un punto di vista inflattivo abbiamo già visto nelle precedenti giornate scusate ragazzi c'è Sili che parla sola abbiamo già visto nelle precedenti video quelli che sono stati gli effetti delle politiche contro il rublo per distruggere in pratica il potere d'acquisto della Russia guardate che cosa è successo nell'ultima settimana al rublo con un meno 30% seguita la settimana precedente aveva fatto meno 7 quindi siamo a meno 40 quindi distruzione e attacco da un punto di vista finanziario alla Russia per quanto riguarda il potere d'acquisto della loro moneta questa è una guerra che si gioca sulla questione dell'inflazione e si gioca sulla diminuzione del potere d'acquisto proprio ai danni del paese in questo caso che ha attaccato l'Ucraina ovviamente ragazzi ci sono sempre risvolti da ambo le parti e questi non sono video dove andiamo a dire chi è il cattivo e chi è il buono perché questa cosa probabilmente non la sapremo mai inutile negarlo e quindi facciamo solo il punto della situazione non da un punto di vista politico ma da un punto di vista di previsioni macro su Bitcoin, sulle crypto e su quello che potrebbe accadere se non che ragazzi proprio a causa di questa svalutazione del rublo la Russia probabilmente ha iniziato un acquisto sulla criptovaluta su Bitcoin per proteggersi da quella che è questa svalutazione del rublo a questo punto la prima questione che modifica un po' la situazione di Bitcoin nei prossimi settimane è proprio quella legata all'inflazione se continuerà questo massiccio attacco finanziario della Russia e il rublo continuerà ad essere estremamente svalutato ragazzi nei prossimi mesi e continuerà questa cosa probabilmente Bitcoin ne beneficerà da un punto di vista di uptrend perché Bitcoin funge ancora una volta da moneta da valuta di protezione contro queste situazioni fin tanto che abbiamo visto il ruolo di Bitcoin di questo tipo quindi a protezione dall'inflazione su paesi più piccoli su paesi magari come El Salvador le abbiamo visto su paesi un po' con l'iperinflazione causata dalle politiche scellerate magari dei governi ma in questo caso abbiamo visto un Bitcoin che potrebbe agire addirittura a proteggere una delle più grandi superpotenze del mondo dalla questione inflattiva se così dovesse essere secondo me l'impatto sul mercato delle cripto e l'impatto sul Bitcoin potrebbe essere drasticamente più rilevante rispetto a quello che abbiamo visto in queste settimane ma già comunque ragazzi c'è stata un'impennata perché l'ultima settimana appunto questa candelona verde di Bitcoin nonostante la crisi perché la crisi ragazzi è la pericolosità che abbiamo per esempio anche di un conflitto di natura di portata diciamo nucleare addirittura è molto alta forse la più alta dai tempi della crisi di Cuba quindi questo è anche molto significativo vedere una cripto che ci fa più 15 più 16 all'interno di una settimana è proprio significativo ragazzi perché la paura ancora è molto alta nonostante questo Bitcoin fa una candela di più 15 più 16 significa che qualcuno lo sta comprando anche perché questa candela se andate a controllare è stata anche una candela sviluppata da molti volumi di ingresso quindi acquisti probabilmente sono acquisti che vengono dati dalla Russia quindi primo punto la questione inflazione Bitcoin protegge dalla svalutazione contro le monete se questa cosa continuerà probabilmente avremo un'ulteriore conferma di questa tecnologia come tecnologia a protezione mondiale di quella che può essere un attacco bellico un attacco finanziario come quello che sta avvenendo in Russia ma tra l'altro ragazzi abbiamo visto anche le cripto essere utilizzate dall'Ucraina per fonti di finanziamento addirittura perché quando un paese viene bloccato da un punto di vista finanziario a quel punto subentrano le criptovalute in aiuto a questa cosa addirittura l'Ucraina ha addirittura fatto un airdrop nelle scorse ore a chi gli dava dei contributi e questo ha fatto impennare ulteriormente il numero delle donazioni date all'Ucraina guardate qui i grafici proprio relativi all'ultima news dell'Ucraina che dice ok vi faccio un airdrop di criptovalute se mi fate delle donazioni e bam di donazioni schizzate alle stelle tra le altre cose ragazzi questa cosa è assolutamente brutta anche da vedere sono sincero però a volte le politiche di marketing funzionano anche sulle questioni umanitarie allora Bitcoin protegge dalla svalutazione sembra di sì sembra che questo obiettivo della criptovaluta stia per diventare addirittura confermato da una superpotenza come la Russia se dovesse avvenire una cosa del genere io penso che la questione cripto sarà veramente veramente spinta in alto ragazzi quindi dopo magari la chiusura di questa fase che adesso andremo a vedere perché poi metà di questo video lo dedicheremo anche ai grafici vi farò vedere che c'è un lasso di tempo in cui questa cosa può avvenire però ricordatevi che l'anno 2022 in teoria è un anno bearish per quanto riguarda le criptovalute quindi chiuderlo in barra di congestione sarà una vittoria enorme per il mercato delle criptovalute quindi dovesse riuscire Bitcoin a stare al di sopra di alcuni livelli questo intendo cosa succede però ragazzi cosa succede se addirittura il conflitto ci va a spostare in altri ambiti e dopo la svalutazione del rublo magari assistiamo alla svalutazione di altre valute importanti proprio per un contrattacco magari oppure per l'impennata dei perezzi del petrolio che in questo momento stanno anche dando appunto il loro contributo all'impennata dell'inflazione generale perché ovviamente la risposta da parte della Russia è questo candelone verde che vedete sui petroli, sui costi energetici che manderà al 100% se continua così in recessione tutti gli stati occidentali ragazzi quindi ricordiamo questo discorso, questo argomento l'ho già trattato in un altro video quindi da una parte abbiamo svalutazione monetaria del rublo dall'altro attacco e contrattacco diciamo così sui prezzi delle materie prime ma non è ancora stato fatto neanche ragazzi tantissimo da questo punto di vista quindi potremmo vedere i prezzi dell'energia esplodere proprio regolarmente e così far crashare totalmente l'economia occidentale e mandarla in forte recessione dopo anni di politiche mandate in recessione quindi la Russia ancora non ha fatto niente di che da questo punto di vista dovesse mettersi d'accordo anche con la Cina potrebbe veramente far chiudere totalmente i ponti al gas chiudere totalmente i ponti all'Europa per quanto riguarda l'energia e ragazzi sarebbero veramente problemi serissimi quindi da quest'altro punto di vista poi ci potrebbe essere un'ulteriore svalutazione del dollaro perché la Federal Reserve così come la Banca Centrale Europea dovrebbero agire a questo punto a tentare di salvare il tutto per tutto e insomma è una guerra per fortuna meno militare e più economica ragazzi vi assicuro che anche danni da questo punto di vista l'economia faranno danni serissimi a entrambi i continenti quindi speriamo che si mettano d'accordo sempre con la diplomazia perché è l'unica cosa che può veramente risolvere il problema in questo momento ma per quanto riguarda un'ulteriore svalutazione anche di altre monete fiat sulla questione Bitcoin e crypto che cosa potrà succedere? io penso che se andremo verso una situazione di iperinflazione a quel punto solo Bitcoin, solo le crypto solo questo mondo decentralizzato non appartenente a nessuna delle due fazioni potrà vincere questa guerra quindi chi vincerà veramente saranno le crypto ragazzi quindi forte attenzione al mercato crypto in questo momento io lo continuo a dire al di là delle oscillazioni al di là di quelle che sono le questioni di uptrend in questa fase perché tra pochissimi minuti vi faccio vedere dei grafici ragazzi io penso che comunque un po' di fase di riposo potrebbe esserci a prescindere perché poi questi sono dati di natura fondamentale però entrano nei prezzi entrano nei grafici quando vogliono loro ragazzi non subito quindi potrebbero anche volerci mesi per vedere delle reazioni di un certo tipo sui mercati quindi mi raccomando non sono consigli finanziari ma riflessioni da un punto di vista macroeconomico su una situazione nel 2022 radicalmente cambiata che sta mutando l'assetto economico politico del nostro futuro per i prossimi 10 anni almeno ragazzi va bene? allora Bitcoin può funzionare come una valuta di protezione per l'intero mondo io penso di sì vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane perché siamo ad uno snodo veramente molto importante andiamo però adesso a vedere i grafici sulle criptovalute andiamo a vedere i grafici di lungo periodo su Bitcoin partendo dalla total market cap di Bitcoin poi vedremo la dominance di Bitcoin e vi faccio vedere anche quella che è l'analisi ciclica di Bitcoin di lungo periodo e in più un confronto con l'S&P 500 per cercare di mettere tutti i puntini sulle I ragazzi allora total market cap del settore cripto nel giugno del 2021 è iniziato il nuovo ciclo annuale questo ciclo annuale ragazzi è quello conclusivo che in teoria in passato ha portato il bear market sulle criptovalute questo ciclo annuale dovrebbe essere ribassista se così andiamo a replicare gli anni precedenti i cicli dell'harding precedenti se questo ciclo annuale non sarà ribassista ragazzi significa che le cripto hanno vinto quest'anno e significa che l'adoption è quello che stiamo vedendo nel mondo i fondamentali delle cripto sono straforti proprio perché questo è l'anno debole ragazzi ok? giusto per ripeterlo mille volte poi verranno altri annuali che teoricamente dovrebbero essere quelli positivi quindi andare a chiudere un anno debole in barra di congestione andarlo a chiudere in sostanza senza danni particolari alla questione delle quotazioni quindi una cosa del genere immagino ragazzi sarebbe una grandissima vittoria perché sarebbe il primo annuale da un ciclo dell'harding che non fa un bear market degno di nota e questo lo potrebbe fare solo ed esclusivamente grazie ai fondamentali ragazzi poi da lì in poi nel prossimo anno verso fine anno 2022 inizio anno 2023 potremmo avere le basi per una nuova fase completamente diversa e a quel punto andare a ragionare su target price decisamente differenti da quelli attuali ma soprattutto lì sarà veramente interessante andare a vedere le criptovalute della DeFi andare a vedere le cripto che possono avere un ruolo differente come Ethereum per esempio su Ethereum io ho un'idea generale che vi svelerò nei prossimi video e nei prossimi mesi ragazzi perché sto attendendo al barco proprio e TH sono come un pescatore sulla riva sto attendendo in questo momento una questione tecnica che si deve andare a verificare proprio su Ethereum vediamo se qualcuno di voi indovina quale scrivetela nei commenti in questo caso e poi andiamo a vedere chi di voi gli effetti ha indovinato vi assicuro che non è facile non è quello che pensate allora da un punto di vista di analisi del ciclo annuale la Total Market Cap riprende più o meno in versione veramente similare a quello che sta facendo Bitcoin allora qui abbiamo un 245 giorni dal minimo di giugno se invece andiamo a considerare il minimo di luglio quindi quello teoricamente non da shadow ma da close siamo un po' più piccoli io in questo caso sulla Total Market Cap mi mantengo a giugno ragazzi perché alcune criptovalute hanno chiuso un po' prima il ciclo annuale Bitcoin invece probabilmente sarà chiuso a luglio ma in sostanza non mi interessa un mese in più perché cambia veramente poco mi interessa più che altro avere un'idea generale di dove siamo da un punto di vista temporale su questa struttura ciclica quindi probabilmente questo ciclo annuale sulla Total Market Cap delle cripto andrà a chiudere tra agosto e settembre-ottobre del 2022 quindi io me lo mantengo proprio nella struttura di agosto attenzione perché ragazzi questa parte del semestrale dovrà essere rialzista quindi nelle prossime settimane nei prossimi un mese e mezzo circa dovremmo avere un'impennata fatta in questo modo delle cripto e proprio questa nuova riscoperta di Bitcoin come valuta anti-infrazione e anti-svalutazione potrebbe essere la chiave per vedere appunto un rialzo delle cripto nei prossimi settimane barra un mese e mezzo circa da qui in poi poi inizieremo a una fase differente ragazzi una fase dove ci sarà la presa di profitto e poi la fase di chiusura del ciclo annuale che avverrà ragazzi in un modo o nell'altro ora questa è la versione di un ciclo annuale di natura di barra di congestione che secondo me sarà già una vittoria una cosa del genere ci potrebbe essere addirittura lo shock con un ciclo annuale rialzista con un nuovo massimo fatto intorno a a maggio-giugno come zona la vedo un po' poco probabile una cosa del genere potrebbe comunque esserci la cosa invece più pericolosa è una fase di impennata in questa zona poco rilevante quindi che non supera per esempio le due medie mobili che vedete qui che non va al di sopra quindi non sale tantissimo perché poi se inizia a scendere da qui allora lì il bear market avverrà anche in questo caso magari un po' più piccolo dei precedenti però lì ragazzi da questo punto in poi è pericoloso quindi questa view è quella che insomma probabilmente è la peggiore di tutte se dovesse avvenire vuol dire che in quel caso la funzione di protezione di bitcoin non avverrà o probabilmente ci saranno delle ripercussioni da parte degli stati occidentali per far sì che la criptovaluta non venga utilizzata proprio per proteggersi tante altre cose che andremo a vedere ma i prossimi mesi un mese e mezzo circa ragazzi sono la chiave di lettura di tutto l'anno 2022 quindi dal mio punto di vista ragazzi queste le tre più ma la più probabile ve lo dico almeno dal mio punto di vista è una cosa del genere cioè una barra di congestione fino alla fine dell'annuale in questione tra probabilmente luglio settembre questa zona fine luglio fine settembre in questi due mesi qui poi qui ovviamente andremo a testare più strategie per vedere che cosa sarà successo e dove saremo questa è la versione che io ritengo la più probabile direi un 60% alla probabilità che bitcoin possa in questo caso la total market cap possa riavvicinarsi ai 2.5 2.7 trillion ma non andare più su di questa e poi andare in chiusura della struttura ciclica annuale classica andiamo a vedere invece la dominance di bitcoin a proposito ragazzi quanta probabilità che invece faccia una view ribassista 20% così come la view rialzista 20% quindi io direi che le view estreme in questo caso sono un po' degli outliers statistici secondo me questo tipo di mercato in questo frangente per i prossimi mesi si comporterà in barra di congestione questo lo dice lunga sul fatto che chi è trader in questo momento ragazzi e chi ha la strategia chi ha le tecniche di trading secondo me l'anno 2022 lo benedirà come l'anno del santo grale perché stando dietro al mercato in barra di congestione con ampi movimenti come quelli del 2022 beh ragazzi vi fate veramente un sacco di gain e questo diciamo la dice lunga su tante cose allora dominance stavamo aspettando la chiusura del ciclo annuale della dominance su bitcoin ciclo annuale che sembra essere stato chiuso proprio qui con il minimo del gennaio 2022 sembra perché ancora la dominance sta salendo ma non è molto forte però ragazzi un ritrovato ruolo di bitcoin a protezione come valuta proprio potrebbe innescare un pump proprio del re e non delle altre cripto e questo innescherebbe quindi una risalita della dominance che poi è quello che ci aspettiamo ricordate che è una risalita al di sopra dei 47 indicherà un nuovo annuale praticamente quasi certo della dominance di bitcoin è un nuovo annuale molto importante ragazzi perché avremo una prima parte tendenzialmente rialzista delle cripto e poi da quel punto di vista bisognerà capire che cosa succederà perché se andiamo per esempio a fare un massimo poi da qui avremo una struttura di chiusura quindi qui dovremmo andare a capire come si sviluppa questo annuale della dominance perché darà risposta anche della scelta delle forze relative fra bitcoin ed ethereum per esempio ragazzi quindi se la dominance farà un nuovo annuale ribassista come quello precedente e quindi una cosa del genere significa che ethereum luna e binance coin quelle che sono le top five le top ten delle criptovalute saranno più forti di bitcoin nella seconda parte di questo ciclo quindi lì si potrebbe fare uno switch tra i nostri bitcoin e le altre criptovalute e avremmo diciamo come si dice il dessert dopo il pasto gratis questo annuale vedete è stato fortemente ribassista è stato il primo annuale fortemente ribassista ma è anche quello che chiude un maxiciclo di bitcoin quindi ci può stare alla grande qui ragazzi invece dovrebbe iniziare un nuovo ciclo totalmente diverso come un ciclo dell'hubbing quindi dovremmo essere in questa fase qui quindi nuovi tre annuali da sviluppare e questo è proprio l'inizio quindi basta il superamento ti quota 48% di dominance e poi da lì in poi ci sarà da ridere quindi in questa fase in questo preciso momento secondo me bitcoin è più forte ed è più protettivo in questa fase quindi io vado un po' di più su bitcoin meno sulle crypto in questa fase sulle crypto sto agendo solo con trading system perché mi mi fa stare più tranquillo ragazzi ve lo dico perché se dovesse verificarsi una cigno nero proprio di shock ribassista a causa del conflitto beh sicuramente le criptovalute più piccole ne risentirebbero 100 volte di più di bitcoin ve lo dico in maniera molto chiara proprio perché bitcoin funge da protezione da anti-inflazione ma la stessa cosa non è per altre criptovalute ragazzi quindi dovessero succedere cose veramente brutte in questa guerra magari bitcoin riuscirà a reggere perché funge appunto da valuta anti-svalutazione ma le altre cripto probabilmente no e quindi vedremo questa dominance impennare vedete come i puntini si stanno unendo un po' su tutte queste cose quindi vi sto dando una serie di direttiva una serie di logiche di riflessione veramente straordinarie stra importanti per i prossimi mesi ragazzi fatene tesoro dibattiamone comunque anche andiamo a ragionare insieme anche nei commenti scrivetemi un po' dico 7 ultimo grafico di oggi poi chiudiamo guardate invece la questione è legata al grafico di spread tra standard and pulse 500 e bitcoin ragazzi allora tutta questa fase la fase finale con novembre che ha toccato il massimo storico bitcoin ce lo aspettavamo un po' più profondina questa fase di ribasso cioè ci aspettavamo che scendesse fin qui cioè che bitcoin andasse sopra i 69 toccasse almeno 80 87 mila dollari così non è stato allora cosa sta succedendo qui ragazzi sembra proprio che la fase di 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 forza bitcoin contro standard pulse 500 sia un po' terminata attenzione a questo livello qui perché se questo livello venisse breccato a quel punto adesso vi do la logica finale significherebbe in sostanza che da qui è iniziato un nuovo ciclo che probabilmente sarà un ciclo almeno di un anno e x ma è un ciclo lungo quindi andremo a fare la prima gamba rialzista di un ciclo del genere che poi dovrebbe essere almeno un ciclo ragazzi di 1400 giorni quindi lunghissimo ma diciamo un primo annuale fatto così andrebbe a indicarci una fase al rialzo almeno fin qui e poi una chiusura di questo tipo ma sarebbe un po' più una cosa del genere ragazzi vedete quindi una cosa del genere significa mercati in rosso un po' tutti ma con standard force 500 che perde meno di bitcoin e questa è la questione quindi bitcoin perderebbe di più di standard force 500 quindi superati queste zone si va in un punto di non ritorno ed è pericolosissima una cosa del genere ve lo dico in maniera chiara questo grafico va guardato come un grafico che ci può dare il click di una luce che si accende su un eventuale cigno nero delle cripto una cosa del genere sarebbe negativa e quindi significa che il conflitto e tutto ciò che sta avvenendo avrebbe serie di percussioni in quel caso avremmo un mercato S&P probabilmente che crolla ma crolla meno delle criptovalute questo è il discorso ragazzi quindi questo è uno spread è un indice di forza ci dà la forza di standard Pulse 500 contro Bitcoin se sale lo standard Pulse 500 contro Bitcoin non significa che salgono le azioni significa probabilmente che il mercato sta crollando e significa che Bitcoin crolla più di standard Pulse 500 un rialzo di questo tipo non è buono ve lo dico francamente quindi questo è il grafico del cigno nero da guardare non si deve assolutamente verificare una cosa del genere deve essere un annuale che ragiona così perché ci sta perché siamo in una fase di imbalzo ma poi si ritorna qui per una nuova fase e poi a un certo punto dovremmo fare una cosa del genere verso il 2025 questo poi magari lo andremo a vedere in un altro video va bene ragazzi quanta roba quanto contenuto in questo video fatemi sapere che cosa ne pensate se apprezzate contenuti di altissimo profilo macroeconomico di questo tipo mettetemi i pollici condividete datemi una mano ragazzi perché fare contenuti di questo tipo è complicato ma ho bisogno anche della community di voi per farli girare il più possibile perché ovviamente non sono commerciali come sapete non è che andiamo a parlare di ho fatto la doccia per 200 giorni scherzi a parte va bene ragazzi allora grazie a tutti e ci vediamo nel prossimo video anzi nel prossimo video forse ci vediamo con la camera frontale ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti